Con il massimo rispetto per la sua funzione parlamentare, per la sua carriera politica, la sua storia politica, però io ogni volta che vedo in televisione l'On. Maurizio Gasparri ha un rebound potente e mi viene in mente un clamoroso caso di bavaglio che ho in qualche modo subito, anche se subì era una parola grossa, nella mia carriera, insignificante carriera di giornalista. Correva l'anno 1998, lavoravo a Panorama e io avevo fatto una lunga inchiesta con tante puntate e con tanti articoli sulle vicende della Somalia, in particolar modo sui comportamenti dei nostri soldati, truppa ma anche e soprattutto ufficiali e altri ufficiali, nel corso della missione Ibis Restor Hop, missione di pace, durante la quale peraltro furono uccisi anche Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due giornalisti della RAI, giornalista e l'operatore di ripresa. Bene, io andai giù pesante, vinse anche il premio San Benzani, che fu però come una specie di stop, no? Però andai giù pesante con la garanzia di essere in qualche modo tutelato dal mio direttore, che durante quell'inchiesta a Panorama era Giuliano Ferrara. Poi Giuliano Ferrara andò via, ma io continuai ancora con alcuni articoli, ci fu la Commissione Gallo, ci fu il famoso diario del maresciallo Aloi, ci furono, come dire, minacce, pedinamenti, successe di tutto. Poi un giorno, un weekend, io ero in montagna, compra il Corriere della Sera e lessi questo articolo, erano due colonne, mi sembra, che un gruppo di una cinquantina di parlamentari aveva raccolto delle firme, aveva presentato una petizione al Presidente del Consiglio affinché Panorama la smettesse di scrivere articoli sui comportamenti dei militari, in particolar modo di alcuni militari dei paracadutisti, durante la missione di pace. I comportamenti erano le famose torture, i famosi stupri collettivi ai danni delle donne somane. Questa raccolta di firme fu organizzata da Maurizio Gasparri e da un altro parlamentare che si chiama Giovanardi. raccoltero queste firme, usci il Corriere della Sera, fui convocato dal direttore che nel frattempo era cambiato e sostanzialmente mi si disse, non possiamo più andare avanti perché c'è lo stop del Parlamento alle tue inchieste. Ecco, allora io ogni volta che vedo Maurizio Gasparri in televisione, che magari parla anche magari di temi legati alla stampa, lui è stato anche, se non ricordo male, relatore di una legge, la famosa legge Gasparri. E penso a questo, penso a quello che è stato un clamoroso bavaglio che mi fu messo, diciamo, verso un momento cruciale di quell'inchiesta che stavo facendo da un anno. Ecco, così, era solo un ricordo, poi tutto passa, tutto passa, tutto, tutto, tutto passa, sotto i ponti l'acqua va via e scorre lenta verso il mare.